Buonasera, buonasera a tutti, vi salutiamo da uno dei più importanti monumenti d'Italia, il monumento nazionale è Vittorio Emanuele II, come meglio conosciamo tutti noi, il vittoriano. E aspettando la mezzanotte, da dove partirà uno spettacolo di fuochi d'artificio, proprio qui dalla collina vicino del Cerio, in attesa ascoltiamo il concerto della banda musicale Interforze. Il maestro, tenente colonnello, Patrizio Esposito dell'Aeronautica Militare, dirigerà il canto degli italiani, come meglio conosciamo tutti noi l'inno di Mameli. E per farlo, pensate, i militari hanno chiesto l'aiuto a 200 bambini che compongono i corsi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E quindi salutiamoli con un grande applauso. Prego, maestro. Grazie. Grazie. Aplausos. La mia vita, la mia vita, la mia vita, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I bimbi siete stati bravissimi, io vorrei fare un comunetto anche ai loro insegnanti, i maestri Cosè Maria Asciutto e Claudia Morelli. Grazie ancora. E adesso, a unirsi per gli auguri di questo importante anniversario, abbiamo il Ministro della Difesa, Ignazio Larussa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcosa per la patria. Grazie ragazzi, buon centocinquantesimo a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie veramente a tutte le forze dell'ordine italiane che ci assistono sempre e comunque. E adesso, in attesa sempre di questo spettacolo pirotecnico, io vorrei chiedere al maestro tenente colonnello Patrizio Esposito, da chi è composta questa banda delle forze interforze? Anzi, come si chiama? Sì, appunto, è sempre una banda interforze, è composta da tutte le forze armate.